È il 1981 quando viene segnalato un inspiegabile aumento di polmoniti in giovani omosessuali ed è per questo che oggi si parla dei primi 40 anni dell'epidemia innescata dal virus HIV isolato e identificato. Tre anni dopo sono molti i traguardi raggiunti nelle cure, ma anche tanti e nuovi problemi nella gestione di una piaga sanitaria che ha fatto in tutto 45.000 vittime solo in Italia e 35 milioni nel mondo. Fanno molto molto riflettere i dati che sono stati diffusi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità secondo cui due terzi dei sieropositivi a livello planetario, complessivamente circa 26 milioni, vivono proprio in Africa, l'80% dei quali tra i 15 e i 19 anni sono donne. C'è anche da considerare il momento storico che stiamo attraversando perché oggi la pandemia di Covid-19 ha sottratto notevoli risorse scientifiche e finanziarie dalla lotta all'AIDS. Gira tantissimo anche accanto a noi nei paesi dell'Est. Ci sono tantissimi casi, soprattutto tra coloro che usano droghe per via endovenosa. I problemi del presente sono per certi versi ancora più subdoli di 40 anni fa quando non c'erano cure. Il problema della diagnosi precoce da cui dipendono cure tempestive ed efficaci resta spinoso più che mai e l'AIDS è ancora una malattia potenzialmente mortale senza un adeguato trattamento. L'obiettivo di oggi è sconfiggere l'epidemia entro il 2030.